C'è una cosa che non è sindacabile, Luca, è la tua voce. Allora, provate a chiudere tutti gli occhi, per favore, adesso, facciamo una cosa. Chiudete gli occhi in silenzio assoluto, creiamo un po' di ambiente. Io controllo se qualcuno ce l'ha aperto. Sono Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Grande! Certo che il gladiatore... Ma quante volte te l'hanno chiesto di farlo? Non lo so, milioni. Se mi avessero dato un centesimo, ogni volta che ho detto al mio segnale scatenate l'inferno, adesso la stavamo a fare i caraibi in un villone. Ma che galattico!